Aristotele Zlatanov si riparte, tante facce nuove in questa nuova LPR, novità anche a livello societario, la cosa più importante però è che Vicenza ci sia ancora. Infatti hai già detto tutto, tutto nuovo, l'unica cosa veramente importante sia per noi, per il volley, ma anche per la città è che questi signori si siano dati da fare per salvarci e che siamo ancora qui a parlare di volley e non di fallimenti. La sera della presentazione di Alberto Giuliani è stata fatta una domanda al tecnico, gli è stato detto questo sarà un anno di passaggio e Giuliani ha detto sì, però non diterò a Zlatanov. Guarda, lo sport è agonismo, quindi noi siamo qui a sudare, a dare il massimo, non per passare il tempo ma per vincere, quindi è vero che è molto probabilmente, quasi sicuramente non abbiamo una squadra da vincere, però questo non significa che ci possiamo togliere delle soddisfazioni e non scendiamo in campo per passare un'annata così perché non è da me. Bisogna scendere in campo e vincere contro la prima divisione come contro Macerato o chi altro. In 30 secondi riesci a riassumerci che estate è passato? Sì, l'estate è stata che eravamo su un precipizio, eravamo dentro al burrone senza nessuna cima che ci potesse salvare, quindi è stata una bruttissima estate fino alla conferenza stampa alla quale hanno annunciato il salvataggio, e non soltanto il salvataggio ma anche un seguito, un futuro e da lì in poi sono iniziate le vere vacanze. Adesso però bisogna parlare ovviamente solo di pallavolo, questa squadra, hai già detto, non è probabilmente da primissimi posti ma dove può arrivare secondo te? Dove può arrivare? Arriva, non lo so, adesso non voglio dire niente prima di aver parlato, prima di aver fatto almeno un allenamento, però non lo so, dovremmo arrivare almeno a fare i play-off, mi auguro. L'obiettivo tuo personale? Il mio personale? Tenermi il trono, il scettro del top scorer.